Si è svolta al piano terra del terzo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo l'inaugurazione dell'Agicot, l'ufficio allestito per accogliere e seguire il decorso post-ospedaliero che in questa prima fase interesserà i primi 20 anziani fragili. Una struttura dedicata appunto all'organizzazione e al potenziamento dell'integrazione dell'assistenza sociosanitaria tra ospedale e territorio. È vero, è un progetto importante, la Regione Abruzzo ha presentato a livello ministeriale questo progetto e lo ha vinto e ha dato l'incarico alla Alza di Teramo di essere capofile investendo fondi, investendo risorse, ma soprattutto portando avanti un progetto fondamentale per quello che riguarda la presa in carico del paziente anziano fragile dopo le dimissioni dell'ospedale. Il paziente sarà seguito a livello multisistemico, quindi non solo attraverso l'ADI ma anche attraverso altre forme che vede una realtà inclusiva anche dei comuni del terzo settore. Un progetto fondamentale, innovativo, anche precursore di quelli che poi sono le linee che sono state dettate dal PNR. Quindi un progetto all'avanguardia che abbiamo presentato anche a livello nazionale ricevendo i complimenti da tutti gli addetti della sanità. L'obiettivo dell'Agicot è quello di introdurre un modello organizzativo di aggregazione funzionale per integrare le richieste che nascono dai bisogni sanitari e le risorse sociosanitarie per la presa in carico dell'anziano fragile. Sarà un'equipe multiprofessionale a definire, ottimizzare, attivare e monitorare il percorso più appropriato non solo nella fase della dimissione ospedaliera ma anche tra i diversi percorsi assistenziali del territorio. In questa prima fase qui saranno 6-7 persone ma è coinvolto tutto il personale ASL dai medici dell'ospedale ai medici del territorio perché va data quell'assistenza continua al paziente. Noi non lo dobbiamo curare in maniera tale che una volta uscito dall'ospedale, come diceva il dottor Profeta, non dobbiamo riportarlo all'ospedale, non dobbiamo fargli acutizzare la propria malattia ma gli dobbiamo dare modo di potersi curare nel proprio ambiente familiare perché tanti anziani nel momento in cui li portiamo nelle nostre strutture si dissociano e per loro è la fine della propria vita. Quindi noi dobbiamo farli vivere, farli stare bene nel proprio ambiente in cui hanno sempre vissuto.